Lo spirito è quello di grande collaborazione e grandissima disponibilità. Quando sono stato contattato per ricoprire questo ruolo ho chiaramente detto subito sì, dando la mia disponibilità a portare avanti questo progetto nuovo per Terra Nova in cui ho dato mano e ho dato subito il mio appoggio. Per cui anche se è stata una cosa che non mi aspettavo quando però mi è stato chiesto di collaborare e di ricoprire un'altra volta questo importante incario ho dato il mio appunto assenso confidato in una cosa, nel mio grande impegno e nella mia grande disponibilità. Poi il resto vediamo.